Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si consolida una figura anticiclonica tra il nord Italia e l'Europa centrale, fino al Mediterraneo centrale. Sul nostro territorio permangono tuttavia deboli infiltrazioni di aria più fredda in quota, che causeranno ancora per la giornata di oggi residui e instabilità pomeridiane sui rilievi interni della regione. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi sereno poco nuvoloso al mattino sui settori tirrenici ed interni. Nuvole basse associate a foschie dense e locali banchi di nebbia si attarderanno dalla notte al primo mattino lungo tutti i versanti ionici, specie su Catanzarese, Marchesato, Golfo di Corigliano, Piana di Sibari ed Alta Valle del Crati. Tra tarda mattinata e pomeriggio andrà via la nuvolosità sui settori ionici, lasciando spazio al cielo sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sui rilievi interni dal pomeriggio, con possibili piogge e locali rovesci su Pollino, Orso Marso, Sila in sconfinamento ad aria del Savuto e Reventino, Serre Vibonesi ed Aspromonte. Temperatura stazionaria. Domani i parziali anovolamenti ritroveremo lungo il versante tirrenico cosentino e Catanzarese al mattino, sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone della regione. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi avremo il mar tirreno calmo, quasi calmo, per venti tra calmi e deboli nord-occidentali. L'Oioni risulterà poco mosso per venti deboli meridionali. Domani venti deboli occidentali sul tirreno con mare poco mosso, quasi calmo il settore settentrionale. L'Oioni vedrà ventilazione deboli di direzione variabile, localmente moderata sul golfo di Squillace, calmo il golfo di Corigliano, poco mosso nei restanti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortesia attenzione. Appuntamento a domani.